Oggi rispondiamo ad alcune domande pratiche in materia di successione per darti un concreto aiuto qualora tu sia divenuto erede. Ma prima, sigla! Quando muore un proprio cano si apre la cosiddetta successione. Entro un anno bisogna fare la dichiarazione di successione da inviare all'Agenzia delle Entrate. È una mera formalità ma che deve essere fatta nei termini, altrimenti sarà applicata una sanzione. Lo scopo, oltre a prenderci le tasse di successione, è quello di ufficializzare la propria qualifica di erede. Diversa però dalla dichiarazione di successione è l'accettazione dell'eredità. Infatti non è facendo la dichiarazione di successione che automaticamente si accetta anche l'eredità. Qui i termini si dilatano sino a dieci anni, tempo in cui l'eredità può essere accettata o rifiutata. Si va di bene però, e si faccia attenzione, perché se io utilizzo un bene del decuyus, ad esempio prelevo dei soldi dal suo conto corrente, qual'erede, si ha la cosiddetta accettazione di tacita dell'eredità, in quanto in tal modo ho accettato di fatto l'eredità e così ho accettato anche i debiti. Quindi fate attenzione. Quando si diventa eredi, a quale avvocato rivolgersi? Vale la regola, che è una regola generale, che bisogna rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto di famiglia e di successione. Il classico avvocato generalista che ci ha curato il sinistro e che magari ci ha indicato la carrozzeria di fiducia non è consigliabile e ovviamente è inutile spiegare il perché. Dove faccio le pratiche di successione? La dichiarazione di successione è possibile farla a un patronato o farla fare direttamente al tuo geometra di fiducia. La rinuncia all'eredità invece è possibile farla fare da un notaio o recarsi in tribunale a quell'ufficio che si chiama volontaria giurisdizione. I costi sono ovviamente diversi, in quanto in quest'ultimo caso vi ha un costo vivo soli di 250 euro circa, ma dovrei fare tutto da solo. È obbligatorio redigere il testamento? Ovviamente no. Redigere un testamento è una scelta, ma nel caso in cui non si lascia il testamento alla propria morte, i propri beni andranno equamente divisi come previsto per legge ai cosiddetti legittimari. Se legittimari non vi sono, andranno agli altri parenti per grado di successione. Che differenza c'è poi tra legato ed erede universale? Con il legato il decuius lascia all'erede un bene preciso, ben determinato. Erede universale invece è colui che invece eredita i beni del decuius nella sua universalità, complessità. Ad esempio, se Tizio nel testamento dice, lascio la casa in via Monte Napoleone a mio figlio Caio, questo è un legato perché è determinato e specifico quel bene. Una differenza importante è che l'erede universale acquisisce beni, ma anche debiti, mentre il legato non verrà gravato da debiti, se vi sono. Un'altra domanda che mi viene posta è, ma la successione legittima cos'è, in cosa consiste? Beh, se non vi è un testamento, l'eredità sappiamo regolata dal nostro codice civile e si ha la successione legittima, in cui erediteranno i discendenti del decuius, quali il coniuge, i figli e in loro assenza i genitori, fratello, eccetera. Spero che la risposta a queste domande ti sia stata d'aiuto per chiarirti alcuni aspetti inerenti alla successione. Se così è ti invito a mettere un mi piace a questo video e iscriverti al mio canale per essere aggiornato sui miei prossimi video. Se invece vuoi avere una consulenza personalizzata o assistenza in materia di successione, scrivimi all'indirizzo e-mail che trovi in sovraimpressione. Non mi resta che salutarti, ciao al prossimo video.